eccoci qua ragazzi salve a tutti bentornati sul canale udinese napoli al ridosso del match probabili formazioni le ultime in casa napoli ovviamente anche in casa loro per quanto riguarda la conferenza stampa di ieri lampo la conferenza stampa un tantino irritante e lasciatemelo dire irrispettosa anche verso chi guarda la conferenza stampa verso noi rifosi ma due paroline anche lì analizziamo anche un tantino l'avversario negli elementi perché poi in conferenza stampa non si fa altro che buttare benzina sul fuoco ed esaurirsi quindi lo facciamo noi l'analisi dell'avversario i pericoli che potremmo incontrare come stanno loro come stiamo noi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre iscrivetevi al canale attivando la campanellina così si resta aggiornati ogni qual volta esce un nuovo video i passaggi sono sempre gli stessi è molto semplice un bel like a questo contenuto se vi piace l'esposizione e informazioni per il palinsesto di oggi dalle 16 e 30 saremo live sul canale di mauro tntv 1926 trovate tutti i canali qui sotto in descrizione dalle 16 e 30 saremo lì tutti insieme per il pre partita fino alle 18 dalle 20 torneremo qui sul canale post partita immediato reazioni a caldo i nostri e i vostri commenti dalla chat da dove partiamo partiamo con una piccola considerazione perché sulla conferenza stampa non voglio assolutamente soffermarmi voglio andare a condividere con voi informazioni e analisi dell'avversario per lo più in questo contenuto io sono d'accordo con le parole di del genio che dice conte ovviamente fa il paragone con la lazio ma non avrebbe mai accettato il mercato che poi hanno fatto hanno fatto a roma se l'avesse se l'avesse fatto il napoli quindi diciamo che è più una risposta per lavarsi le mani a domande che non hanno né capo né coda lasciatemelo dire quindi quando fai un paragone qualche elemento in più in comune tra due squadre deve pur esserci da un da una parte c'è è vero che abbiamo cambiato allenatore tutte e due però ci sono due idee di gioco completamente differenti differenti due situazioni di mercato anche abbastanza differenti tra le due quindi il paragone non è che regge più di tanto però c'è da dire che sono d'accordo con le parole del mister che stanno facendo molto bene in europa anche perché sono in un momento dove gira tutto bene sia la lazio sia l'atalanta poi vedremo se dovessero esserci cali a stagione in corso ma soffermiamoci assolutamente su questa udinese le ultime sull'udinese lunga la lista di indisponibili sono costrette a ridisegnare la sua formazione auto coie in porta gioca sava con l'infortunio di zarraga ritorno al 352 con il terzetto difensivo composto da gianetti biol letture quinti di centrocampo e zibue da un lato e zemura dall'altro in mezzo lovric calstrom e kelen camp davanti proprio il tandem tove lucca infatti l'udinese dovrebbe schierarsi così 352 sava gianetti biol turesi bui lovric calstrom e kelen camp zemura tove e lucca ballottaggi turi christensen 55 45 per cento zemura camara 60 e 40 il napoli anche se conte ci ha detto abbiamo provato diversi moduli non ho ancora deciso eccetera eccetera è ancora continua il lavaggio delle mani ci sta pure perché comunque la situazione dopo queste due sconfitte con la lazio un tantino diciamo è è andata un po a male ecco per quanto riguarda la tranquillità la tranquillità in generale però ovviamente colpa dei calciatori colpa anche di cambi forse tardivi le partite si possono tranquillamente perdere però rivedibili comunque alcune scelte in questa settimana che ha portato comunque all'uscita della coppa italia e la sconfitta con la lazio in campionato dovrebbe essere questa la formazione meretto di lorenzo raccamani buongiorno livera anchissalo botca mettoni politano lucacu neres con un ballottaggio 70 e 30 per cento in favore ovviamente di neres con gong che potrebbe entrare a partita in corso ovviamente il napoli deve far fronte all'infortunio di quara potrebbe saltare 3 4 partiti chi dice 15 giorni chi dice 20 poi vedremo quando potrà rientrare l'esterno del napoli meretto tra i pali e la stessa formazione dovrebbe essere ovviamente quella che schiererà antonio conte oggi ma l'udinese partita poco chiara per quanto mi riguarda perché è una squadra da alti e bassi è una squadra che però gioca e lascia giocare gli spazi comunque che lascia da poter sfruttare sono sono tanti anche se un tantino di attenzione a livello difensivo ce la mettono pure però se pressati alcuni calciatori soprattutto dalla tre quarti in avanti perdono palla e si può ovviamente approfittare di situazioni in superiorità numerica ovvero allora l'udinese chi vede la porta anche da fuori area parlando ovviamente con numeri alla mano toven lucca e brenner su tutti precisione passaggi touré biol e carstrom che poi è il metronomo è il metronomo dell'udinese chi rischia la giocata chi ovviamente vede l'imbucata e si infila chi vede l'avversario che sta andando verso la porta e rischia la giocata rischia il passaggio pur non sapendo se va in porto o meno però talvolta rischiare il passaggio e creare una situazione pericolosa e tanta roba comunque camara toven e davis davis in questo caso sono i calciatori che rischiano più la giocata contrasti e intercetti mi soffermo un attimo qui perché conta in conferenza stampa ha detto squadra molto fisica e da anni che fa un mercato comunque così con calciatori fisicamente prestanti però ecco che quando conta in conferenza stampa parla di questa situazione le domande che poi arrivano dopo nella conferenza se tu hai preparato una domanda su perché non è andata con la lazio eccetera eccetera cambiala in corso d'opera ti ha lanciato l'assist per quanto riguarda la fisicità della formazione il mister in conferenza andate nel dettaglio elencate gli avversari nomi degli avversari chi sono i calciatori che potrebbero diciamo rompere le scatole un tantino in più di altri contrasti e intercetti quelli che ne escono vincitori sempre numeri alla mano per quanto riguarda l'utinese sono biolo giannetti castro e zibwe però c'è chi perde palla molto spesso se viene pressato e viene messo ovviamente in condizioni di in condizioni di poterla perdere nessuno tuven e zibwe lovric e zemura in casa ovviamente dell'utinese perdono palla se pressati lasciano spazi per eventuali ripartenze quindi la considerazione che faccio io è che con un neres che ci auguriamo in campo poi nel caso oggi vedremo mi auguro di no ngong lukaku politano allora diciamo che ce ne ce ne faremo una ragione neres sarà poi il calciatore a a partite in corso credo che non sia così perché il il brasiliano sarà poi il titolare dell'attacco dall'anno prossimo in avanti non credo che testi sempre un calciatore che entra al settantesimo sessantesimo quando entra al sessantesimo perché poche volte forse una o due volte sarà entrato al sessantesimo perché i cambi si fanno dopo il settantesimo in casa conte e accettiamo anche questa però molte volte molte volte non paga questa situazione tanto è vero che si poteva fare qualcosina in più ma l'abbiamo già detto in diverse live e in contenuti contro la lazio soprattutto soprattutto in campionato al di là della coppa italia che tu hai schierato tutto un undici diverso hai voluto fare il tentativo o hai voluto mettere diciamo in risalto la panchina del napoli per poter andare poi in direzione in fase di mercato e dire visto allora quello tizio che ha il sembronio secondo me dobbiamo cambiare alzare il livello siamo tutti d'accordissimo poi vedremo il mercato di gennaio cosa porterà anche se sono sempre dell'opinione che se vuoi valutare alcuni calciatori per quanto riguarda la rosa e la panchina li devi anche mettere in condizioni di di poterli sfruttare ovvero non cambi tutto l'undici ne cambi cinque su undici e i cinque nuovi tra virgolette che entrano dalla panchina comunque hanno una solita base dietro e ai lati per poter per potersi esprimere poi al meglio detto questo io mi auguro che il napoli faccia una partita più offensiva del solito perché dobbiamo portare a casa i tre punti e non esiste assolutamente perdere punti con l'udinese perché poi si può accettare tra virgolette perché accettare una parola grossa la sconfitta con una lazio in campionato che può essere una diretta concorrente per quanto riguarda a questa corsa champions però poi non accetto andare a udine e lasciare lì tre punti o al limite tornare da udine con un solo punto e un misero pareggio per quanto mi riguarda sarò troppo esigente le voglio vincere tutte assolutamente no però sulla carta non è che esistono partite semplici o partite più difficili come ha detto conte sicuramente però poi i valori dell'avversario in campo sono quelli che sono e alla lunga devono uscire per forza fuori altrimenti dobbiamo andare ad esaminare scelte prestazioni dei calciatori e dei singoli lo faremo nel caso dovesse esserci un passo falso ma non credo sono fiducioso per la partita di oggi fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti ci vediamo come ho detto a inizio video il palinsesto è completo ci vediamo alle 16 e 30 sul canale di mauro tutti i link sono in descrizione e poi vi aspetto nella live di stasera dalle 20 post partita immediato ciao a tutti e sempre forza napoli